Il Tricolore ha conquistato Piazza degli Eroi, i fumogeni, la gioia dei tifosi per celebrare la conquista del titolo europeo da parte degli azzurri di Mister Mancini. Il Tricolore ha conquistato Piazza degli Eroi, i fumogeni, la gioia dei tifosi per celebrare la conquista del titolo europeo da parte degli azzurri di Mister Mancini. Il Tricolore ha conquistato Piazza degli Eroi, i fumogeni, la gioia dei tifosi per celebrare la conquista del titolo europeo da parte degli azzurri di Mister Mancini. Il Tricolore ha conquistato Piazza degli Eroi, i fumogeni, la gioia dei tifosi per celebrare la conquista del titolo europeo da parte degli azzurri di Mister Mancini. Il Tricolore ha conquistato Piazza degli Eroi, i fumogeni, la gioia dei tifosi per celebrare la conquista del titolo europeo da parte degli azzurri di Mister Mancini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.